Cari amici, un video importante che vi invito in modo particolare a condividere il più possibile. Sempre la fonte, che è Mediaset e il Televideo, sempre la data. Guardate cosa fa quel cattivone e antidemocratico di Orban. Ungheria ha stabilito un tetto ai prezzi dei generi di prima necessità. Avete capito bene, credo che abbiate visto o intravisto, stabilito un tetto oltre il quale non si può andare per i generi di prima necessità. Una misura molto, molto, molto importante, molto, molto, molto bella, di una grande intelligenza. Eccolo qua. Dal primo febbraio un tetto ai generi alimentari di prima necessità. Una misura che il governo Draghi non ha annunciato, non ha al momento, sembra, intenzione di prendere, ma è una misura che deve entrare in una piattaforma politica seria e deve essere imprescindibile ai primi posti per chi voglia, per quelle forze politiche che vogliano fare effettivamente il bene della popolazione, del popolo, in questo caso del popolo italiano. E quindi spero che a determinate forze, mi riferisco soprattutto a Fratelli d'Italia, ma è un invito che faccio a tutti. Spero che questa proposta molto illuminata, molto illuminata, molto illuminata e molto avanzata di quel cattivone e antidemocratico che è Viktor Orban venga ripresa e venga rilanciata, venga proposta, venga caldeggiata anche nella bellissima democrazia avanzata, liberale, sulla carta, che è l'Italia. Quindi lo ha annunciato il primo ministro Viktor Orban, spiegando che la misura serve per contrastare l'inflazione, la crescente inflazione. Poi andate come sempre a vedere, a controllare, a cercare le fonti, fate un minimo di ricerca, quello che vi chiedo sempre e vi invito a fare puntualmente, esercitando lo spirito critico e usando la materia grigia che il Buon Dio ha messo a disposizione di tutti, persino a Parenzo, in fondo. Vi ringrazio ancora, vi invito a iscrivervi al mio canale, Giorgio Riccardin, c'è anche il canale muletto, Giorgio Riccardin2 e poi il canale Telegram, ancora una volta Giorgio Riccardin. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.